E' l'edizione numero 12 per la festa della Castagna di Senarica, appuntamento autunnale dedicato al prodotto principe del territorio che coniuga l'evento gastronomico con il tema della tutela delle aree interne. Al laboratorio di pensiero di sabato 21 ottobre interverrà infatti il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, mentre domenica 22 ottobre sarà premiato il presidente del Lanci, Antonio De Caro. Quest'anno insieme alla Prologo di Senarica abbiamo deciso di dare questa onoreficenza alla Castagna d'Oro al presidente nazionale del Lanci, il dottor De Caro, sindaco di Bari. Io credo che sia anche un momento, come devo dire, di stima per il lavoro che fanno i sindaci, per il lavoro che fanno le amministrazioni, perché se è vero che c'è stata un po' di attenzione è venuta dai territori. Ospiti d'onore della due giorni dedicata alla Castagna di Senarica saranno anche i tanti volontari che sono intervenuti da ogni parte d'Italia in soccorso alla popolazione durante l'emergenza di inizio anno. Innanzitutto tengo a ringraziare le istituzioni che ci sono state vicine per l'organizzazione, quindi il comune di Grognaleto e il bacino imbrifero montano di Teramo. Importante la manifestazione, quest'anno l'abbiamo voluta sottolineare la presenza dei volontari che ci hanno aiutato durante il periodo di emergenza dello scorso gennaio. Quindi saranno presenti i volontari e noi ringrazieremo. E poi ci saranno molti spettacoli. I spettacoli inizieranno dal sabato pomeriggio con un teatro dialettare, la sera di sabato ci saranno Duccio e gli outlet e quindi proseguirà la serata con un DJ in piazza.